Lo scorso anno in attuazione del testo unico sull'ordinamento degli enti locali è stata costituita nel Piacentino tra i comuni di Besenzone, Castelvetro, Caorso, Corte Maggiore, Monticelli-Dongina, San Pietro-Incerro e Villanova-Sullarda, l'Unione dei Comuni della Bassa Valdarda e del Fiume Po. Un lungo percorso amministrativo e politico finalizzato ad ottimizzare le risorse economiche degli enti pubblici ma soprattutto offrire alla cittadinanza una struttura municipale allargata, più efficiente e funzionale. I comuni della Bassa Piacentina nei mesi scorsi hanno già provveduto a conferire all'Unione le funzioni di protezione civile, la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, le procedure dello sportello unico telematico, delle attività produttive e la pianificazione del sistema sociosanitario con il distretto di Levante. Il prossimo passo sarà quello più delicato, ovvero l'unione delle funzioni di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa Locale. Un settore è quello della sicurezza urbana che racchiude in sé diverse competenze. I compiti sono molteplici, vari e soprattutto quasi tutti mirati alla sicurezza, rispondere a esigenze di sicurezza dei cittadini. Quindi si va dalla sicurezza sulla circolazione stradale a 360 gradi, quindi dall'intervento sul sinistro stradale all'intervento sanzionatorio, all'assistenza delle persone in caso di sinistro stradale, alla sicurezza in valore assoluto, quindi l'intervento in caso di esigenze legate alla microcriminalità, al controllo del territorio e non ultimo al controllo dedicato al settore di protezione civile, soprattutto in questi periodi dove le precipitazioni sono aumentate in maniera esponenziale. L'unione delle funzioni comunali di Polizia Locale si attua però in un momento piuttosto delicato a causa dei poderosi tagli attuati dal Governo nei confronti del comparto sicurezza. Dobbiamo confrontarci con una riduzione delle risorse anche economiche e anche legate al personale. dobbiamo essere noi professionisti in maniera tale che si possa gestire al meglio con quello che poco abbiamo. Il ruolo della Polizia Locale è determinante al fine di un controllo ragionato del territorio, alla luce anche dell'ultima ondata di furti e di spaccate avvenute nei giorni scorsi nella bassa Piacentina. Da qui le raccomandazioni a tutti i cittadini da parte delle forze dell'ordine locali. Mai in nessun caso dare notizie sulle nostre assenze, aumentare il controllo reciproco fra vicini, incrementare quello che un tempo era il buon rapporto di vicinato perché solo così si ha un controllo reciproco della propria abitazione e ovviamente mettere in atto quei piccoli marchi ingegni che possono essere dall'allarme elettronico alla nascondere i generi di valore che abbiamo in posti diversi da quelli che possono essere i posti scontati.